Musica Posizionare Arezzo tra le città d'arte che offrono ai visitatori un intrattenimento di qualità declinato fra arte, storia, ristorazione e shopping. Ecco il perché di 25 aprile in Fiera, che martedì 25 aprile animerà il centro storico con oltre 140 espositori di collezionismo vintage, antiquariato e artigianato artistico. La Fiera del 25 aprile sta prendendo una propria autonomia, cosa che secondo me era molto importante quindi ringrazio l'associazione di categoria che si sono fatte carico di portare avanti questa manifestazione perché c'è sempre stata grande confusione, molti la confondevano con una tredicesima fiera però aveva delle logiche molto diverse da quelle della Fiera Antiquaria quindi io credo che sia importante perché poi ricade soprattutto in un periodo come quello del 25 aprile che spesso è un ponte e quindi la città è piena ed è importante far comunque vedere una città viva altrettanto è importante per gli espositori vendere però è una manifestazione che secondo me deve avere una propria autonomia e crescere negli anni quindi credo che quest'anno si sia trovato il bilanciamento giusto e da ora speriamo che ogni anno possa crescere proprio come evento autonomo. Questo è proprio l'esempio pratico di quando un'iniziativa viene condivisa porterà sicuramente degli ottimi risultati. Diciamo che è un nuovo inizio, speriamo che questo porti a un futuro migliore e con grande entusiasmo da parte di tutti. Questi eventi di mercati servono proprio per tutti i cittadini e anche speriamo di portare anche tanti turisti dalle vallate vicine proprio per far visitare Arezzo. Ci sono zone che anche per me che sono a retino di nascita ancora stento a conoscere quindi invito tutti a frequentare il mercato del 25 aprile.